La questione delle armi nucleari è una questione che riguarda tutti noi, in quanto le conseguenze di queste armi saremmo noi a viverle in prima persona. Sono armi di distruzione di massa realizzate per radere al suolo intere città, realizzate per non solo distruggere l'ambiente ma per letteralmente ucciderci in un batter d'occhio. Di conseguenza la presenza di una mostra come questa volta a sensibilizzare il pubblico fa sì che una volta che noi sappiamo del problema, perché le armi nucleari sono davvero un grande problema, possiamo cercare di lavorare per la risoluzione che poi a lungo tempo, a lungo andare, è quella della totale eliminazione delle armi nucleari dal pianeta. Quindi speriamo davvero che con questa mostra del primo passo sia quella di sensibilizzazione. Quindi imparate molto di più sulle armi nucleari, i soldi che vengono sprecati nella produzione di queste armi di massa e le conseguenze dannose come ho detto prima all'ambiente, agli esseri umani, sia dalla produzione che dalla detonazione di queste armi e possibilmente una volta aver imparato un po' di più, condividere queste informazioni con amici, cari e tutte le persone che incontrerete e agire. Ci sono davvero tanti modi per agire, ci sono davvero tante campagne che l'Italia, diverse organizzazioni italiane tramite qui, senza atomica e rete italiana, pace e disarmo e possono aiutarvi ad essere coinvolti, campagne e volte a sensibilizzare le città, a sensibilizzare le università, a sensibilizzare i governi e più in alto a sensibilizzare la comunità internazionale.